buongiorno sono il dottore scalera giuseppe lavoro presso la seconda università degli studi di napoli dove mi interesso di chirurgia bariatrica e presso il mio centro privato che è il Cairon Laser Institute nella provincia nord di Napoli mi interesso fondamentalmente di chirurgia bariatrica per la quale ho svolto un'ampia attività in diversi ospedali universitari francesi per circa dieci anni la mia esperienza mi ha consentito negli ultimi anni di operare presso la seconda università degli studi di napoli circa 300 pazienti affetti da grave obesità circa dieci anni fa ho realizzato il centro medico Cairon che si interessa sia di medicina e chirurgia prettamente volta al settore dell'obesità ma negli ultimi anni abbiamo dato un notevole impulso alla medicina estetica ed in particolare ai trattamenti estetici realizzati con diverse tecnologie laser ho il piacere di dirigere un'equipe fatta da nutrizionisti, da dermatologi, da psicologi e la mia idea è quella sempre di dare qualità al paziente incrementando le diverse professionalità vorrei ricordare che siamo forse uno dei pochi centri in Italia ad avere un dye laser della candela che tratta tutte le lesioni vascolari del corpo ma abbiamo anche altri apparecchi di ditte altrettanto importanti nel panorama mondiale quale la decalaser della quale abbiamo un laser Q-switchato che ci permette di togliere dei tatuaggi di diversi colori i pazienti che sono interessati ai miei trattamenti sia per quanto riguarda la chirurgia dell'obesità sia per quanto riguarda la medicina estetica e quindi laser che io propongo presso il centro medico Cairon possono andare o sul sito del centro medico Cairon o sul mio sito personale e contattarci via email o via telefono